salve a tutti e benvenuti in questo nuovo video allora mi è appena arrivato questo bullet journal e volevo iniziarlo a fare con voi e quindi niente scartiamolo mi è presa voglia perché guardando i video di Elena non lo so mi è presa voglia e già ne facevo uno però era già strutturato non era fatto da me autonomamente quindi ho detto vabbè proviamo questo qui l'ho preso su Amazon al costo di 9,95 euro e niente ce l'ho ordinato ieri e mi è arrivato oggi e ecco allora dentro è fatto con questi puntini la carta non è molto spessa quindi ho paura che comunque mi passeranno i colori però proviamo a fare un contratto con la mia matita e proviamo a vedere come viene a Grazie a tutti. 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 e a tutti. Grazie a tutti.